Secondo intervento delle forze dell'ordine e seconda multa per il gestore della piscina comunale di Arezzo che vedete alle mie spalle, gestore che deliberatamente aveva annunciato e poi effettivamente ha fatto così di non chiedere il green pass all'entrata della piscina comunale. Una prima multa era già stata combinata qualche settimana fa dalla polizia municipale. Nelle ultime ore un nuovo controllo non solo della polizia municipale ma anche del personale della polizia di stato e del PILS della ASL. Le forze dell'ordine si sono recate nella struttura che si trova adiacente allo stadio comunale e hanno elevato multe da 400 euro al gestore e ad altri presenti per violazioni riguardanti la normativa sul green pass. Io spero che si metta in regola e che quindi la gestione cominci a fare quello che avrebbe dovuto già cominciare a fare da tempo cioè chiedere il green pass per l'accesso in piscina. È una legge nazionale che lo prescrive quindi nulla di strano. Vedremo se questo avverrà. Nessun problema. Siamo contenti della gestione attuale salvo questo problema. La struttura di proprietà comunale ma che è nata in project financing potrebbe essere passibile anche di chiusura alla terza multa. Se dovesse ripetersi che a un controllo delle forze dell'ordine si verifica che non viene richiesto il green pass in accesso purtroppo saremmo costretti a provvedere con la chiusura dell'impianto. Revoca della convenzione è possibile? Vediamo. Questo sarà in un secondo momento. Intanto se dovesse succedere ma ripeto mi auguro veramente di no, l'impianto viene chiuso temporaneamente. E a questo punto parleremo nuovamente con il gestore per capire se intende continuare su questa linea oppure no.